Purtroppo non è più una sorpresa e passando per motivi di lavoro a fianco del cimitero di San Giovanni l'unico dubbio riguarda settimanalmente quale sia la varietà dei rifiuti qui abbandonati. È un problema talmente consistente che è in fase di completamento anche l'iter amministrativo per installare a questo luogo delle telecamere di sorveglianza. Stavolta degli scelerati hanno lasciato qui della mobiglia. Due divani, una lavatrice ancora carica di vecchi stracci all'apparenza ed un vecchio frigorifero con tanto divano freezer, tutti ingombranti sia a livello di volume che di peso. Insomma una fatica di non poco conto per i trasgressori della legge che dalle loro abitazioni hanno portato con ogni probabilità con il favore delle tenebre qui il materiale abbandonandolo aumentando poi per l'intera comunità i costi di smaltimento ma soprattutto ignorando ancora una volta e senza alcuna giustificazione che è sufficiente una telefonata ad un numero verde apposito per farsi ritirare la merce a domicilio non si infrange la legge, non si rischiano soprattutto multe salate. Di certo l'ennesimo caso adesso porterà ad una ulteriore velocizzazione del processo di installazione delle telecamere.